allora ragazzi bentornati su new retro questa volta parliamo di un gioco molto particolare realizzato di recente da un programmatore italiano e questo è un gioco che sta su una sola linea di codice una cosa straordinaria cioè su una sola riga di codice c'è questo gioco una specie di snake si chiama grass snake adesso andiamo a vedere allora innanzitutto questa è la linea di codice che bisogna inserire guardatelo un po eccola qua allora l'autore si chiama naufrago e il suo vero nome davide di fichera davide fichera alcuni di voi lo conosceranno già allora questo codice un po strano perché in realtà utilizza tutte le possibili come si dice abbreviazioni tipo vedete il punto interrogativo sarebbe print no adesso vediamo a digitarlo lo provo a digitare vediamo un po se riesco e un po che esce fuori allora devo fare andiamo a crearlo non trovo il carattere giusto ma lo sai che questo no eccolo è questo qua Eccolo 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 Fermi tutti Eccolo Ok Beccato Beccato Abbiamo quasi finito Ho sbagliato Eccolo Ok abbiamo finito ragazzi Questa qui forse ho mancato una linea Aspetta devo ricontrollare perché mi sa che ho mancato Ho mancato un pezzetto Ricontrolliamo un attimo ragazzi Ricontrolliamo un attimo Allora vediamo un po' Perché se ci avete fatto caso ci ho messo parecchio a digitarlo Anche perché ci sono parecchi codici E questi codici qui Questi codici qui Purtroppo sono fatti con i caratteri del Commodore I caratteri quelli Allora Dove è stato? Ecco Allora questo era il codice originale Mi sa che ho sbagliato qualcosa Allora uguale a 100 Allora facciamo il debug C più c uguale 1 On meno p Tra parentesi a Diverso da 86 Ah c'è una chiusa parentesi Che ho mancato qui Ecco adesso andiamo a farla Dopo 86 c'è una chiusa parentesi Ecco Qui ho sbagliato Shift Backspace E poi parentesi chiusa Ok Questo qui una sola riga di codici Allora come voi sapete A parte il fatto dei simboli grafici Che ho dovuto inserire Questa riga di codici è fatta con tutti Come si dice Con tutti Abbreviazioni Tipo il punto interrogativo Sarebbe il print Altri comandi sono abbreviati Da altri simboli grafici Come vedete Allora In pratica Che succede? Ogni riga di codici del Commodore Può essere lunga massimo Due righe Che sono 160 caratteri Ok Quindi il programmatore Naufrago Che è un genio Praticamente Ha fatto in modo di ridurre Con le abbrevazioni Tutta questa riga Che in realtà è più di una riga di codici Infatti se noi adesso andiamo a mettere list Possiamo scrivere list Per esteso pure L Shift I Come vedete è lunga Due caratteri Due righe e mezzo Ed è diversa Da quella che si fa Ad esempio il poche Era P Shift O Lo vedete poche E P Shift O Sopra E' diventato poche sotto In pratica adesso si espansa Questa linea Adesso io non la posso più modificare Perché se io la vado a modificare Cosa succede? Mi prende solo le prime due I primi 160 caratteri Gli altri caratteri che stanno sotto Non me li prende Non me li Me la taglia questa riga Quindi E' una riga di codici Che in realtà è truccata Perché è più lunga di quello che dovrebbe essere Adesso se noi andiamo a dare il run Partirà questo gioco Che è una specie di snake Ma è diverso dallo snake del Nokia Forse anche più figo Perché Somiglia a Ski Ricordate abbiamo fatto una volta Una puntata Su Ski per Commodore 64 Il gioco dell'uscita Dove tu dovevi fare slalom Tra gli alberi E prendere tutti i vari Le varie bandierine No? Questo è simile Tu devi schivare le X E devi riuscire ad andare più avanti possibile E' come se facessi una discesa E' un serpente Che scende giù per una collina E deve schivare tutti gli ostacoli Cercando di fare il punteggio maggiore Adesso che io gli do il run Non sarà chiarissimo il gioco Ma cercherò di spiegarvelo E poi lo renderemo un po' più chiaro Con qualche modifica che gli farò Quindi andiamo a vedere Allora andiamo a dare il run Eccolo qua Allora come vedete in alto c'è il serpentello che va E io premendo lo spazio Lo faccio andare più a destra Lasciando lo spazio va a sinistra In sostanza il serpente G va sempre a sinistra E se io premendo spazio Lui va un po' più a destra Come un po' tipo Flappy Bird Se vogliamo Oppure quei giochi moderni One button Se il serpente va troppo a sinistra Muore Vediamo quanti punti faccio Sono morto Ho fatto 362 punti Rieniamo a vedere il codice Adesso per il gioco Lo rendiamo un pochetto più intelligibile Più chiaro da vedere Come facciamo? Vado a inserire Nelle piccole modifiche Che farò io Allora innanzitutto Dobbiamo scorporare Questa linea di codice La scorporiamo Perché altrimenti Non me la prende più Quindi facciamo così Allora innanzitutto Adesso mettiamo il codice Per cambiare il colore del fondale Adesso cambiamo il colore Dei caratteri Lo rendiamo giallo Così è più bello E più risalta di più Allora qua Che aggiungiamo il game over Aspettate Facciamo così Togliamo un attimo questo Andiamo con run Adesso è un pochino più chiaro Riproviamo Adesso è ancora più chiaro Perché è tutto giallo E ho finito 236 punti Ho fatto schifo Però abbiamo reso il programma Un pochino più intellegibile Cambiando i colori Del fondale E di tutto quanto Adesso possiamo Anche fare qualche Altra piccola modifica Tipo Posso Ad esempio Questo lo lascio giallo Il game over Gli posso cambiare colore Allora questo tipo Lo lascio giallo Così Control 8 Per il colore giallo E poi questo qui Gli cambio il colore Nel game over Lo mettiamo Aspetta Shift backspace E poi mettiamo Control 2 Per bianco Quindi il game over Adesso sarà bianco E il gioco sarà giallo Diamo il run Volendo potremmo anche Aggiungere una schermata Dei titoli Con scritto magari I controlli Come si fa E tutto quanto Grass snake Lo possiamo chiamare Grass snake No? Come è? Ecco qua Andrò da sbattere Quando andrò da sbattere Se ria Se vado a sbattere Ecco qua Il punteggio Esce fuori Bianco Possiamo anche un attimo Distanziare il punteggio Oppure possiamo Pulire lo schermo Quando appare La facciamo così Allora Com'era il comando Per pulire il punteggio? Aspetta Facciamolo così CLR Mi pare su Commodore Su 128 funzionava Su 64 Non so se funziona Il CLR Proviamo un attimo No non funziona Il comando CLR Su Commodore 64 C'erano poche Comunque Per pulire Oppure c'era un carattere Specifico Adesso non mi ricordo Ragazzi C'era un carattere Che serviva a pulire Lo schermo Si metteva tipo qua Era il Shift Home Però Aspetta Forse ce la faccio Allora Un po' Shift Home Si eccolo Eccolo Dovrebbe andare Ci mettiamo anche Un Eccolo qua Ci mettiamo anche Un carattere giù Anzi un paio Di carattere giù E poi ci mettiamo Anche qualche carattere Così per Per farlo un po' Più centrato Ok Quindi adesso Quando schiatto Dovremmo Eccolo qua Si pulisce lo schermo Ok Possiamo mettere Un caratterino Più indietro E posso Posso fare un piccolo Schermo dei titoli Tipo Sulla riga numero 3 Facciamo una riga 3 Creiamo una riga 3 E ci mettiamo Che ne so Print Ok Eccoci qua Ho fatto un piccolo taglio Per evitarvi Tutta la storia Che mi mettevo A modificare il programma Come vedete Ho aggiunto Un piccolo schermo Dei titoli Ho aggiunto Una specie di intro Improvvisata Dove il serpente Parte In sostanza E poi alla fine La schermata Del game over A parte Che con pulizia Lo schermo E tutto Andiamo a giocare Vi faccio vedere Com'è la versione finale Leggermente modificata Da me Ovviamente Non è più Su una riga Come vedete Sono tante righe Adesso Però Comunque il gioco Ha assunto Una forma Un po' più Tra virgolette Presentabile Ok Andiamo a vedere Questo è lo schermo Dei titoli Grass snake Prespace to play E come vediamo Ecco il quale inizia Ce l'avete visto All'inizio del gioco C'era il serpente Che Partiva No? Si vedeva che partiva Dall'alto E faceva un giretto Dobbiamo cercare Di non andare troppo a sinistra Sennò chi si schiatta E se uno va Alla massima sinistra Sbatte contro il muro A sinistra E muore Stessa cosa a destra Mi sa Però non so Dopo lo proviamo Adesso Però fa una partita normale Vediamo quanti punti faccio Tra l'altro Si potrebbe anche fare Una sfida Cioè Ho fatto 317 punti Andiamo a vedere Che succede Quando Lo snake Sbatte a sinistra No Va dall'altra parte Semplicemente Fa il giro E va dall'altra parte Quindi stessa cosa A destra Immagino Vediamo un po' Sì Perché il codice Sebbene L'ho visto È abbastanza Ingegnoso Quindi C'è sta cosa Che non sbatti contro il muro Ma fai il giro Ok Adesso però Fa una partita Vera Decente Questa vale per la sfida Perché fino a me Era la prova Faccio un singolo tentativo Valido per la sfida Che figurina Questo era il secondo tentativo Terzo tentativo Valido per la sfida Dai È un po' Ma tolfatto Il primo tentativo Era 317 punti Niente 80 Il mio score Quindi il massimo punteggio È stato 317 punti L'ho fatto prima Per questa volta è tutto Ragazzi Questo era grass snake Il gioco è quello Quindi non è diverso Da quello che One liner Che trovate in giro Come ultima cosa Vi faccio vedere Anche Una piccola Chicca Che è la versione Quella A treline Che si chiama Semplicemente Snake Non è Non è così Che va giù Lo snake Non è così È diversa Sempre il nostro Naufrago Ha fatto un'altra versione A tre righe Un po' più Diciamo Evoluta dal punto di vista ludico Ma io preferisco questa Perché questa qua In una sola riga Riesce ad essere un gioco divertente Totalmente originale E geniale Nel fatto che sia 340 minuti Andiamo a vedere adesso Vi faccio vedere La versione quella A tre righe Che si chiama Snake Non è grassa snake Si chiama snake Eccola qua E come vedete Ecco sono andato subito a sbattere C'è il nostro C'è il nostro Snakeino Che va Tu volete lo controlli Con due tasti A ed S Con uno lo fa girare In senso Anti-orario E con l'altro In senso orario Con A ed S Sinistra e destra No A ed S A ed D A ed D sono i tasti Faccio vedere Lo scopo è un po' più evoluto Giaco perché lo scopo è quello Di prendere I diamantini Senza andare a sbattere Ho fatto due punti Che schifo Riproviamo Facciamo un terzo tentativo Ok Adesso sono andato a sbattere ancora Ho fatto veramente schifo Zero punti Il gioco è più difficile Del grass snake Zero punti Ma sono veramente scarso Sto gioco Chissà se succede se riesco a prendere tutti i diamantini Magari C'è modo di finire il livello? Non lo so Perché il codice non l'ho visto Dove vi faccio vedere il codice? Ragazzi 16 punti Adesso vi faccio vedere il codice Queste ha tre righe Sempre fatto con il trucco Delle abbrevazioni Quindi sono tre righe più lunghe del normale Ok Eccole qua Una Due Tre Tre righe La prima riga dura Due linee E un pezzetto La seconda riga Sono due linee E un pezzetto La terza riga Sono due linee E un pezzetto Ancora più piccolo Ok come vedete Come vedete Questo era Lo snake Sempre di Naufrago Davide Fichera E prima avevo visto il grass snake Anche in versione modificata da me E per questa volta è tutto Ciao ragazzi Alla prossima Mi sono dimenticato di salvare la versione modificata da me No 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 E quella versione lì del gioco Andrà perduta Come lacrime nella pioggia Per questa volta è tutto Ciao ragazzi Alla prossima Ok Alla fine l'ho riscritto E l'ho anche Migliorato Ci ho tolto tutti quei print Brutti lì Ci ho messo invece i caratteri in basso Così è un po' meglio E adesso andiamo a provarlo ragazzi Andiamo a vedere Come funziona Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima No Mamma mia 623 punti ragazzi Per questa volta è tutto Noi ci vediamo al prossimo episodio Di Red to Play Anche del Basic Del Basic Per questa volta è tutto Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima